Ciao bambini, sono Gabriella. Oggi leggiamo Il gatto e la libendula, edizione arte e bambini di Tsunneo Tanuki. È un giorno di gran caldo e il gatto se ne sta tranquillo a sonnecchiare. All'improvviso, zzzzz, un ronzio. Il gatto si sveglia di soprassalto e grida, chi è che mi disturba? È la libellula che gli svolazza intorno. Ora ti acchiappo, dice il gatto. Comincia a rincorrere, ma la ribellula vola velocissima. Ma dove si sarà nascosta? Pensa il gatto. Eccola là, ti ho trovata. Ti piglio, mio bel bocconcino. Adesso ti mangio. Con il retino non mi sfuggerai. Per andare più veloce, il gatto salta su uno skateboard. Ma non ce la fa. Allora vola su un aeroplano e... Miau! Precipita nel bucato steso fuori. L'inseguimento è finito. Il gatto e la libellula fanno pace. E diventano amici.